I sistemi possono anche rompersi. Una supernova vicina o l'interazione con altre stelle può rompere la stabilità di un sistema. Abbiamo già detto che se i sistemi sono multipli con più di due oggetti sono molto instabili. Addirittura qui vediamo l'esempio di un sistema quaternario, quindi composto da quattro elementi, che a causa della sua instabilità ne perde due, trasformandosi in un sistema binario. Le due stelle che si perdono conservano il loro moto angolare e lo trasformano con una velocità radiante con cui si allontano dal sistema. Nella galassia ci sono molte stelle che si muovono controcorrente rispetto alla rotazione galattica, questo perché sono stelle uscite o espulse da sistemi binari. Addirittura a volte queste velocità possono raggiungere anche i 100 km al secondo. Qui vediamo un esempio in cui troviamo un sistema binario e una stella terza che interagisce con esso. La stella terza può in qualche modo destabilizzare il sistema binario e permettere a una di queste, magari la meno massiccia, di essere espulsa dal sistema. Sostituendosi a questa, la stella espulsa dal sistema avrà una sua velocità che deriva dal moto angolare che conservava dall'inizio della sua formazione. Sono proprio eventi come questi che poi permettono di osservare stelle che si muovono controcorrente rispetto proprio alla rotazione galattica, quindi stelle che vanno contro la rotazione galassia. L'unica spiegazione è che sono state espulse da sistemi multipli. Quando una stella si muove nel mezzo intestellare può generare delle onde di pressione. Qui vediamo delle bellissime onde di pressione generate dal mezzo intestellare che interagisce con il moto di questa stella fuggente. Infatti le stelle espulse si muovono nel mezzo intestellare generando scie di gas simile alla coda di una cometa che sono osservabili a diversa lunghezza d'onda. Le velocità di queste stelle possono essere talmente elevate che vincono la velocità di fuga della galassia e vengono letteralmente espulse dalla galassia. Qui vediamo una stella che fugge dalla nube di Magellano, una delle due galassie nane che ruotano attorno alla Via Lattea, con una velocità di 2,6 milioni di chilometri all'ora. Sicuramente questa stella è stata espulsa da un sistema molto stretto. Più gli oggetti espulsi orbitavano vicine alla compagna e maggiore sarà la velocità di fuga che acquisiscono quando ne vengono espulsi. Quindi molto probabilmente stelle che superano la velocità di fuga della galassia provengono da sistemi doppi o multipli in cui le componenti erano molto vicine da loro. Perché appunto, secondo la legge di Keplero, più gli asti sono vicini e più devono ruotare velocemente per rimanere in orbita. Se questi sistemi doppi così stretti si rompono, le stelle fuggenti acquisiscono una velocità molto elevata. Invece quando si rompono sistemi con stelle molto distanti, la velocità di fuga che ottengono non sono molto elevate. Questo è solo un estratto della lezione completa dedicata alle stelle binarie. Nella lezione completa vedremo quante sono i sistemi multipli nella galassia e quante di queste sono binarie. Vedremo che la maggior parte dei sistemi multipli sono binarie perché sono i più stabili. E quante invece sono le stelle solitarie come il nostro Sole. Poi parleremo dei pianeti che possono ospitare queste stelle e della loro abitabilità. Parleremo dell'ipotetica compagna del Sole. Forse anche il nostro Sole è legata gravitazionalmente con un altro oggetto. E questo viene sospettato perché sulla Terra abbiamo un'estinzione di massa ogni 26 milioni di anni. La regolarità con cui avvengono questi eventi fa sospettare che il Sistema Solare subisca l'influenza gravitazionale di un altro oggetto che si avvicina regolarmente come se fossimo parte di un sistema doppio. E poi parleremo anche delle interazioni che ci possono essere tra due stelle di un sistema binario. Soprattutto quando questi sono molto vicini e soprattutto quando finiscono la loro sequenza principale. Quindi vedere come interagiscono quando uno dei due diventa un oggetto supercompatto come una nana bianca, una stella di neutroni o un buco nero. Questo e tanto altro ancora nella lezione completa sulle stelle binarie, la numero 26 del corso di Astronomia. Potete trovare questa lezione e tutto il corso di Astronomia nel mio canale YouTube e sulle mie pagine social Prof. Antonio Loiacola. Grazie.